Scelgano i cittadini. No al Porcellum, una delle cause del distacco tra le persone e la politica. Basta liste bloccate. Restituiamo il potere di scelta ai cittadini attraverso i collegi. Rapidamente e in modo trasparente vogliamo definire chi è con noi in questo percorso verso un nuovo orizzonte. Accettiamo la sfida. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS